L'amministrazione comunale di Son Gavazzo ha collocato un rilevatore di velocità in via Vittorio Veneto. Perché questa scelta? Il Comune ha deciso di fare sul serio, ha deciso di monitorare la velocità media delle macchine che transitano sulla nostra arteria principale e ha deciso di in qualche modo sanzionare le auto che supereranno questi limiti attraverso controlli che progressivamente faremo. Il rilevatore in questa fase ha una valenza di natura psicologica, serve all'automobilista che sta transitando per capire a che velocità va e soprattutto serve a rallentarne un'eventuale tendenza alla corsa all'interno della parte più importante del nostro paese. Questa scelta fa parte di un progetto più ampio? Sì, noi siamo fermamente convinti che la via Vittorio Veneto, che è l'arteria principale del paese, non debba essere un elemento di divisione ma debba poter unire il Comune di Son Gavazzo. Per troppo tempo gli automobilisti e molti degli automobilisti hanno fatto ciò che hanno voluto su quel viale, in alcuni casi mettendo a repentaglio anche la vita degli abitanti del nostro Comune e ora assolutamente di smetterla. Quindi al di là del misuratore di velocità andremo a collocare due attraversamenti pedonali in rilievo rosso all'altezza dell'incrocio con via dei Mille e all'altezza del parcheggio del mercato. Istituiremo una zona 30 piuttosto ampia che va dal Bivio, via Vittorio Veneto e via Benzoni, quindi tutta la zona della via degli alimentari Meller e tutta la zona del centro storico limitata al 30 all'ora fino alla piazza Papa Giovanni XXIII. Questo sarà un superiore elemento di disfasione per quanto riguarda la velocità. Abbiamo già provveduto a risistemare la segnaletica orizzontale che mancava ormai da più di 20 anni e al di là di questo applicheremo un sistema di rilevamento di velocità attraverso la polizia locale del nostro territorio che periodicamente si collocherà sulla via principale per misurare e quindi a questo punto andare anche a reprimere e a sanzionare gli eventuali eccessi.